Il Martini è uno solo anche se in realtà sta esibendo due volte in questo primo segmento di stagione del campionato di Serie D. Bene, molto bene in trasferta, meno bene in casa. C'è discrepanza, almeno si inquietra rendimento interno ed esterno per la formazione di Massimo Pizzulli. Lo dicono i numeri, la squadra della Valeditria con la valigie da viaggio ha già vinto tre volte e ha collezionato ben dieci punti in cinque partite l'ultimo domenica scorsa con lo 0-0 di Nardò. Solo il Casarano in campo avverso ha fatto meglio con undici punti. In casa, invece, è tutta un'altra storia. Il Martina non ha mai vinto in cinque esibizioni di campionato al Tursi e ha ottenuto due soli pareggi. Nessuna delle 18 del Gironi H ha fatto peggio nella versione interna di Biancazzurri. Sono graduatorie parziali ad ogni modo. Quella che conta è la classifica generale che vede il Martina in una posizione insieme a Gladiator con una serie aperta di cinque risultati utili di fila. Dopo un avvio di stagione in affanno con quattro sconfitte rimediate nelle prime cinque gare, il collettivo Martinese ha decisamente cambiato rotta. All'inizio non arrivavano solo i risultati, cioè i punti, però le prestazioni comunque ci sono sempre state. Sapevamo di pagare dazio dalla categoria perché comunque noi siamo sei, sette udincesimi dell'anno scorso. Con qualche rinforzo è arrivato nel mercato estivo. Sapevamo che ci vuole tempo. Ci sono parecchi giovani, abbiamo parecchi giovani in squadra. Una volta aver trovato la quadratura e fatto gruppo, adesso ci stiamo togliendo un po' di soddisfazione. L'obiettivo nostro è quello di rendere la vita difficile a tutti. Poi il risultato dipende anche dal frutto di episodi. Il bottino sin qui non è niente male. Il Martina, nonostante i gradi di matricola, dà la sensazione però di poter fare qualcosa in più. Una in particolare, sfatare il tabù torsi. Sicuramente i Biancazzoli ci proveranno domenica prossima nell'attesissimo derby contro la vicecapolista Fasano. Fischio d'inizio, previsto alle ore 14.30. Poi sulle reali ambizioni e possibilità, come per tutti, se ne riparlerà con la riapertura del mercato invernale. Argomento del prossimo mese. Argomento per il momento che non condiziona squadra e staff tecnico. La società si sa muovere bene, l'ha dimostrato anche in passato. Quindi sa quello che deve fare, sa quello che potrebbe servire a questa squadra. Quindi noi ci fidiamo di quello che fa la società. Al momento valutiamo, lavoriamo e lottiamo con questa squadra e con questi giocatori. Quando si apre il mercato poi la società farà le dovute valutazioni.